Gli effetti della buona scuola in Italia sono ancora tutti da conoscere. Resta per molti versi scettica la CGL nelle intenzioni del Governo centrale. A causa dei tagli alle risorse economiche, il blocco degli scatti di anzianità e il contratto fermo da oltre sei anni. Tutti i motivi che determinano la corsa di molti insegnanti e personale amministrativo a lasciare la scuola pubblica per andare in pensione. Lungo tutta la penisola c'è stata una impennata di richieste, un incremento che sfiora il 40% rispetto allo scorso anno. Oltre 22.000 contro i 17.000 del 2014, percentuali simili anche in Molise. 148 richieste di pensionamento dal primo settembre di quest'anno a fronte dei 111 dello scorso anno. Delle 148 domande, 114 sono state inoltrate dai docenti della provincia di Campobasso. Appena 34 in quella di Isernia, 35 invece il totale del personale ATA. La riforma della scuola pubblica voluta dall'ex ministro Fornero è definita dai sindacati un vero e proprio scippo, con l'unico scopo di fare cassa, penalizzando i dipendenti pubblici. Lavoratori costretti ad andare in pensione 5-6 anni dopo quello che avevano programmato con le precedenti normative. Intanto trapela dal governo Renzi la pubblicazione del decreto legge. È una legge delega per le nuove assunzioni in tutte le regioni del Paese, di nuovi insegnanti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati del concorso del 2012. In Molise l'attesa è per circa 4-500 abilitati, che dovranno ricoprire dal prossimo primo settembre. L'organico di cattedra è quello funzionale. L'organico di cattedra è quello funzionale.